Nell'ultimo consiglio comunale di Domodossola aveva tenuto banco la polemica che i fatti oggi sta vanificando. Parliamo dell'agenzia delle entrate che proprio stamani ha fatto il suo trasloco riaprendo gli uffici nell'ex tribunale di via Marzabotto-Domodossola, sede che per anni era stata prima pretura e poi tribunale e che le riforme dei vari governi hanno svuotato togliendo all'ossola, altro impoverimento, l'unica sede giudiziaria che aveva. Tornando al consiglio comunale domese, il trasferimento dell'agenzia delle entrate dalla sede dell'unione montana all'ex tribunale di via Marzabotto era stata motivo di critiche e ponzecchiature, col sindaco Lucio Pizzi che non aveva risparmiato attacchi all'unione montana a valli dell'ossola, accusandola solo di voler fare dispetti al comune domese proprio sull'ufficio delle entrate che già da piazza stazione era stata trasferita in via Romita. Oggi gli uffici hanno lasciato la sede dell'unione per passare nell'ex tribunale. Lo stabile ospita anche la camera di commercio e dentro fine anno vedrà l'arrivo anche della dogana, attualmente a domo 2, in uno scalo ferroviario che appare perennemente afflitto dal degrado. Basta infatti recarsi in dogana per vedere com'è la situazione dell'ingresso e del tracciato che porta al palazzo di vetro. Ma torniamo all'ex tribunale di via Marzabotto. L'amministrazione comunale domese ha deciso di utilizzarlo tutto e sta lavorando per sistemare la sola zona del palazzo ancora dismessa che dovrebbe accogliere presto altri uffici pubblici di una nota società partecipata.